Ed eccoci qui, quasi pronti per la nostra diretta, quella di questa sera alle ore 21, dallo spazio rotativo, i suggerimenti dei telespettatori sono tutti rivolti al commercio. Bene, noi abbiamo colto questa segnalazione e parliamo proprio di questo. Buonasera Michele. Buonasera direttore, sì, analizzeremo il tema del commercio nella nostra provincia partendo dal web, dall'e-commerce, ci sono tante opportunità e anche tanti rischi per chi compra, lo abbiamo trattato in una puntata precedente proprio di fuori sacco, ci sono anche delle opportunità e dei rischi invece per chi vende e quindi cercheremo di partire da lì per capire come è cambiato anche in funzione del web il commercio piacentino, tenendo presente anche un altro aspetto che è emerso recentemente, la sicurezza anche nei locali, nei pubblici esercizi, soprattutto del centro storico. Quindi una puntata non rivolta solo ai commercianti ma soprattutto a noi consumatori, ci vediamo fra poco.